Affrontiamo questa sera la figura del primo re di Israele, cioè di Saul. Saul è di fatto una figura drammatica, una figura tragica in un certo senso, perché Saul è figura di sovrano primo di Israele, il primo re di Israele, e la caratteristica essenziale da capire è che a un certo punto è il popolo di Israele a chiedere a Dio di avere un re. Il popolo di Israele non è più pago di essere il popolo eretto e di essere retto in un certo senso direttamente da Dio stesso, ma inizia a chiedere di avere un re come tutte le altre nazioni. Questo è un particolare molto interessante, perché voi ricorderete, come dicevamo, che i giudici sono una figura particolare, a metà fra il profeta e il guerriero, di uomini santi che Dio suscita per condurre a buon porto, buon fine, le imprese che devono difendere il popolo di Israele, dai vicini, soprattutto dai filistei. Pericoli ce ne sono incessantemente, ma anche senza re, in un certo senso senza uno stato centralizzato, costituito, ben organizzato, ma semplicemente attraverso la spontanea organizzazione del popolo e delle diverse tribù di Israele, in caso di necessità, il popolo eletto è sempre riuscito a fronteggiare le insidie che lo circondano, a fronteggiare i nemici che lo circondano. Ora, perché Dio non ha fino a questo momento voluto dare un re senso proprio stretto, forte, al suo popolo, proprio perché è il popolo eletto e ha un rapporto privilegiato e diretto con Dio stesso. Il non avere re è in questo senso un privilegio del popolo eletto, non è un fatto negativo, non è un fatto che diminuisce qualcosa di questo popolo, al contrario, è proprio un segno, insieme a molti altri, della sua elezione. Ma questa particolarità, anziché essere compresa, anziché essere oggetto di riconoscenza verso Dio, diventa fonte di insoddisfazione e di lamento. Il popolo eletto, in un certo senso, mal tollera proprio il privilegio di non avere re, perché avere un re significa avere una dinastia regnante che si trasmetterà il potere di padre in figlio, avere un re significa essere obbligati a pagare tasse molto pesanti, affinché il re mantenga il suo esercito permanente, le sue guardie, il suo palazzo, i suoi funzionari, mentre la sua assenza fa sì che Israele sia retto da una sorta di comunità di padri di famiglia, di patriarchi che appunto vivono in pace, senza bisogno del fisco, senza bisogno dei funzionari regi, senza bisogno di un governo centralizzato, ogni presente e costantemente organizzato. C'è uno stato, se vogliamo, tanto particolare quanto privilegiato. Non ci sono praticamente tasse e ogni padre di famiglia può vivere in pace nel suo campicello, sotto il suo vigneto o la sua pianta di fico, a cudire alla sua famiglia, a pensare ai suoi figli, crescerli, educarli, quando è il caso armarsi e combattere insieme agli altri uomini in difesa della sua terra. Ma non c'è lo stato nel senso forte del termine. E scatta qualcosa, se vogliamo, di incredibile. Questo popolo così privilegiato invidia i popoli che hanno un re. O addirittura un grande re, pensiamo al faraone, pensiamo a questi sovrani orientali con tutto il fasto e il lusso dei loro corti. È una invidia ben curiosa, un'invidia addirittura quasi incomprensibile. Il re Dio ammonisce il suo popolo e gli ricorda che soddisferà la sua richiesta, ma questa richiesta stessa sarà causa di afflizione per il popolo, sarà causa di oppressione, perché proprio in quanto avrà il suo re come tutti, ecco che conoscerà il peso del fisco regale, il peso delle leggi del re, il peso della coscrizione, della leva obbligatoria dei suoi figli, il peso del sequestro di vettovagliamenti, di animali domestici, o per le tasse o per il mantenimento dell'esercito in guerra. Quindi di fatto vivrà tutto il peso della monarchia. E questo è veramente interessante, questo paradosso che ho appena cercato di evocare e di descrivere, perché in fondo, proprio in virtù della grande analogia che governa il rapporto fra il popolo di Israele prima della venuta di Cristo e chiesa cattolica, comunità cristiana dopo la venuta di Cristo, in base a questa analogia possiamo dire che è tentazione, in fondo perenne, eterna, dei cristiani, anche oggi, forse soprattutto oggi, dei cristiani, del clero, della chiesa come istituzione, provare una specie di sudditanza verso il mondo, di, se non invidia, desiderio di emularlo, a volte anche in cose che magari non sono così positive. Ogni cristiano, ogni singolo cristiano, come piccola parte, piccola cellula del corpo mistico di Cristo, vive alla stessa tentazione, una sorta di sguardo invidioso, assurdamente, sul mondo e addirittura a volte sui suoi vizi. Mentre il cristiano dovrebbe essere pago di essere ciò che è dell'amore di Dio per lui e non andare a invidiare nessuno per il suo stato di vita, perché questo stato di vita, se è senza Dio, è infelice e quindi non merita di essere invidiato. Invece, come alla chiesa e al singolo cristiano, succederà di provare una specie di vergogna di sé e quasi desiderio di conformarsi al mondo, questa è una tentazione terribile, come al singolo uomo, al singolo uomo può succedere di cadere in questa aridità spirituale, in questa invidia quasi per coloro che non sono cristiani, così gli stessi sentimenti li hanno vissuti, gli antichi ebrei li hanno vissuti, il popolo eletto, che ha calpestato la sua elezione e ha avuto nostalgia di essere come gli altri stati, come tutti gli altri regni che hanno appunto un re. Ecco, a base di queste premesse dobbiamo annotare come il primo re, il re che Dio appunto nomina, vuole andare a Israele, è appunto il re Saul. Saul è una figura biblica così importante, essendo il primo re, da essere, diciamo, assurdo quasi a valore di simbolo universale, la sua follia, la sua mania, omicidio, la sua invidia verso Davide, la sua gelosia, della sua grazia, delle sue capacità. Ecco, è una figura appunto, come dicevo, veramente tragica. Direi una delle più tragiche, perché vedremo che anche la sua morte è tutto, forché, diciamo, corretto dal punto di vista di uno sguardo di fede. Quindi è una figura controversa, importante, è il primo re. Il primo re Dio lo sceglie e invia il profeta Samuele a ungerlo con l'olio santo e così avviene. E questo straordinario giovane che ha una corporatura, tra l'altro possente, che lo fa sembrare più alto, più grande dell'età, che diciamo che ha, questo uomo appunto è in particolare molto alto, si distingue nel testo biblico per la sua altezza, diventa il primo re di Israele. E la figura di Saul, che è ovviamente una figura molto ricca, è una figura, diciamo, particolare, perché ben presto entra in contatto con il giovane Davide, che è un pastore, in sostanza, già scelto da Dio per compiere grandi opere. Vi è il famosissimo episodio dello scontro con il Filisteo, con Golia, che lo insulta, insulta il popolo ebraico, e Davide, questo appunto leone, assalta e uccide Golia. decapita, ne prende le armi, come trofei, e si impone all'attenzione di tutti come salvatore, salvatore, diciamo, di Israele. Quindi, questo Golia, questo uomo gigantesco, di un'antica stirpe di giganti, che fino a pochissimi decenni fa, era appunto accettata come dato storico, effettivo, ebbene, questa stirpe di giganti viene debellata, e non è una stirpe cosissima, è una stirpe, in un certo senso, potremmo definirla quasi satanica, una stirpe terribile, tanto che Davide richiama severamente questo Filisteo, facendogli notare che, diciamo, vivendo tutta l'umiliazione delle sue provocazioni. I due eserciti, quello ebreo e quello Filisteo, sono schierati nel campo di battaglia e per molti giorni questo esercito di re Saul, si trova di fronte all'esercito Filisteo e non riesce a dare battaglia perché viene umiliato, provocato da questo gigante che chiede una sfida che nessuno fra gli ebrei ha coraggio di fare. E questo episodio famosissimo, che appunto è un episodio anche storico, è il primo atto che rivela la figura di Davide. Quindi Saul, dalla sconfitta di Golia ad opera di Davide, vorrà Davide sempre vicino a sé, ma nello stesso tempo, mentre lo ama, anche in qualche modo inizia a odiarlo e la figura chiave sul piano morale, emotivo, spirituale di Saul è proprio il conflitto che ha con Davide e la invidia cattiva, micidiale, spinta fino all'uccisione potenziale della persona che odia, l'invidia verso Davide. Questa è la cifra della vita di Saul, lo scontro con Davide, il giovinetto che intuisce che sarà colui che prenderà il suo trono. Ecco, quindi, la figura di Saul, la figura del primo re, è una figura che ha come cifra essenziale, a partire dall'episodio che ho appena descritto, l'invidia verso Davide, l'iracondia. Era preso, questo re lo vedremo, da veri e propri attacchi di furia che si restiva la Bibbia, in cui cercava di colpire, addirittura per ucciderlo, il suo grande rivale, colui che percepiva come il suo grande nemico, la sua grande insignia, ovvero appunto il giovane Davide. Quindi, la vita di re Saul è una vita triste, è una vita tragica, addirittura, perché Saul fa una cosa che ha fatto, diciamo, vive esperienze appunto molto forti, è un re guerriero, è un re che combatte incessantemente in guerre contro tutti i nemici di Israele e di fatto, anche se vittorioso, ci si rende conto, seguendo appunto la vita di Saul, che il suo rapporto con Dio e con le elezioni del popolo ebraico di cui è re, è un rapporto che è ferito proprio alla radice in modo originale da un difetto che adesso cerchiamo di chiarire. Saul di fatto rappresenta con la sua invidia, la sua incostanza, il suo comportamento equivoco, doppio, la sua incapacità, diciamo, di fare bene quello che deve fare, cioè il re, tradisce essenzialmente questa cifra, diciamo, spirituale, questa essenza, ovvero la paura di essere veramente fino a rifiuto di essere davvero una cosa sola con Dio, di essere davvero suo servo e la pretesa folle e superba da un uomo incostante e invidioso qual è di usare, di usare, di correre, ecco, addirittura alla violenza, a fraticide in un certo senso contro lo stesso Davide. Saul, quindi a questo carattere, ecco, ripeto, incostante, invidioso, iracondo, che lo spinge a volte addirittura a levare le mani e a cercare di uccidere lo stesso Davide. E cosa rappresenta questa figura? Rappresenta un uomo che pensa essenzialmente di usare la religione per sé e per la sua gloria personale, il suo onore e non per servire veramente Dio e il popolo che gli è affidato. Cioè, questo è il problema di fondo di Davide. Anche la sua invidia, il suo, chiedo scusa, di Saule, il suo guardare male Davide, che pure gli fa bene in ogni modo e in tutti i modi, è un segno che per lui non c'è una vera fede ardente in Dio, non c'è un vero affidarsi a Dio. E questo lo porta a un uso mafiarellico, diciamo, di tutto quello che accade, di tutto quello che accade intorno a lui. e questo è il primo elemento che occorreva sottolineare. Saul simboleggia tutti coloro che avendo potere contano, diciamo, di piegare Dio e la sua chiesa ai propri fini e alla propria gloria personale, considerando un altro fine secondario rispetto a questo fine supremo che dà al nostro stato. ecco, in fondo l'esemplarità purtroppo negativa di Saul che vuole usare la religione, non ha una fede vera e sincera, ci rappresenta tutti, o meglio, rappresenta tutti coloro che contano di assoggettare Dio alla sua chiesa e ai propri figli e alla diffusione del proprio potere, della propria gloria, l'aumento della propria gloria. e a questo punto se come fa Saul non c'è vero zero religioso nel pieno oblio di sé ma c'è una specie di calcolo orrendo su come e quanto l'uso della religione può diciamo rovesciarsi a favore della propria gloria e del proprio potere a questo punto Saul viene riprovato viene riprovato perché appunto se operasse come abbiamo detto cioè operasse veramente in vista solo della gloria di Dio ecco che allora le cose cambierebbero molto quello che il testo biblico ci mostra in queste due pagine è molto interessante perché si capisce in modo perfetto trasparente come se l'uomo si converte Dio torna a dare le sue benedizioni se l'uomo si convertisse anche se Saul si convertisse tutto tornerebbe a posto invece vedremo che la fine di Saul è una fine tragica proprio perché non riesce nonostante moltissimi segni in proposito a liberarsi di questa cupidiglia di questo desiderio di gloria di onore e di primato che lo porta a cercare di fare l'impossibile cioè piegare la chiesa e distruggere in un certo senso la chiesa intesa come popolo eletto e a soggettarne la presenza e il ruolo al suo servizio è come se pensasse la religione come una sorta di instrumentum regni cioè uno strumento di potere marchiovellico usato allo stesso modo verso tutti questo atteggiamento di Saul fa sì che la sventura si abbatta su di lui quando assedga una città la prince ma prima della sedia Dio gli ha detto chiaramente di non salvare nessuno di lasciare che la città bruciasse e finisse finisse malamente e Saul assedia questa città nemica la sconfigge anziché spogliarla di tutto ciò che è prezioso e poi lasciare che appunto la città venga bruciarla come Dio gli ordina sogna di sequestrare almeno i prodotti più prestigiosi le cose più di valore per offrirle a Dio quindi prende questa città come Dio gli ha ordinato Saul è anche appunto rego e vero sempre in guerra ma Dio gli ordina di non toccare un solo oggetto di bruciarla per cancellarne anche la memoria e Saul ha battaglia conquisa la città ma dopo averla conquistata non ha la forza di obbedire a Dio e di lasciargli molti ampi commenti a ciò che fa ecco che quindi vinta la città non fa quanto doveva non la brucia senza fare bottino ma si porta porta con sé parte del bottino e lo scopo di questa violazione dell'ordine divino è fare gli sacrifici più grandiosi perché con tutti gli animali che ha preso dalla città ecco che potrà fare un grande sacrificio quindi fine notate apparentemente buono ma il mezzo adottato per fare di fronte è cattivo perché il mondo non ha bisogno in quel momento di più sacrifici ha bisogno di altro ecco che Dio anatemite diciamo così Saul lo accusa di essere disobbediente e nonostante queste alcune scuse e alcune scuse di ogni tipo anche la figura di Saul va incontro appunto a una severissima punizione la punizione sarà la riprovazione di Saul sarà il regno che passerà a un'altra persona che sarà tolto a lui e alla sua casata quindi Dio interviene e sgrida esattamente Saul per aver tolto della preda dalla città vinta e averla sacrificata averla immolata a Dio non accetta il fatto che il fine è fare un sacrificio a favore di Dio non è sufficiente per obbedire a Dio non basta che Saul non abbia preso questi beni per sé non doveva proprio prendere perché l'ordine di Dio era di distruggere la città di bruciarla di cancellarla la faccia della terra e questa disobbedienza viene severamente punita perché Dio e lo Spirito Santo lascia saul che cade immediatamente nello spirito diciamo cattivo e che in pratica si avvia a una tragica morte del suicidio che Saul in un certo punto sta per morire si avvia adesso la conclusione della sua parabola di re sempre perseguitando in tutti i modi Davide inseguendolo ovunque dandogli una caccia spietata per anni e anni tanto che Davide deve fuggire per moltissimi anni il giovane Davide deve fuggire dalla vista di Saul e nascondersi nei deserti e nascondersi nei monti da quando Dio ha riprovato Saul e gli ha promesso che il suo regno sarà perduto per lui e per i suoi figli ecco da quel momento lo Spirito Santo lascia Saul che cade in valia dello spirito cattivo e inizia a odiare e a invidiare senza più nessun motivo appunto Davide quel Davide avrebbe saputo probabilmente condurlo invece a una pace e a una gioia maggiore il più grande forse esempio biblico di quanto possa distruggere un uomo l'invidia l'invidia questo vizio terribile contro lo Spirito Santo perché la persona invidiosa rifiuta di gioire di talenti che hanno le altre persone e con ciò nega allo Spirito Santo il diritto di dare talenti e carismi diversi a seconda delle diverse persone e quello Spirito Santo abbandona Saul che cade in valia di uno spirito cattivo e inizia a odiare senza motivo diciamo in modo quasi illimitato proprio Davide Davide è viceversa un umile pastore è stato scelto da Dio viene dalla famiglia umilissima eppure appunto è stato è stato designato per sostituire il debole Saul debole nel senso di incline appunto accedere a queste ragioni così banali che abbiamo prima descritto ecco questo aspetto fa capire che disobbedire a Dio uscire cioè dal fervore perché in fondo si può dire questo Saul perde ogni fervore uscire dal dinamismo profondo della vita di grazia permettere che lo Spirito Santo sia lontani da un'anima significa che quell'anima stessa avrà come sostegno solo la vita e nelle sue tempeste diciamo solo se stesso negare la soprannaturalità della grazia ecco quello che è interessante sempre osservare di Saul è che nonostante questa invidia quest'oglio verso Davide non riesce a ferire Davide direttamente tanto che una ci sono dei tentativi di aggressione di ferimento che però in genere Davide con la sua grande sapienza e capacità sventa gravissimo che in sostanza mostra come Saul ricorra alla magia nera ricorra alla stregoneria dopo questo terribile tradimento questa apostasia della pitonessa confruttata da Saul Dio di nuovo lo munisce gravemente e in sostanza gli fa comprendere che il suo destino è segnato il paradosso della persecuzione di Davide di re Davide da parte di Saul è il seguente che Saul perseguita proprio colui l'unico l'unica persona che è in grado di aiutarlo perché Saul si calmava solo nei suoi attacchi di ira furiosa solo se qualcuno che sapeva la massa e qualcuno che si prendeva a cura di lui la vedeva ecco avrebbe potuto ecco è dovuto verso Davide avere la massa e la benevolenza perché era l'unico che lo faceva uscire da questi accessi di ira con il suono e con il canto perché Davide fin da giovane è grandissimo cantore e poeta tanto gli sarà l'autore della maggior parte dei salmi e Saul era solito chiamarlo e tenessero vicino affinché gli suonasse qualcosa perché mentre Davide suonava Saul appunto usciva dalle sue terribili crisi di ira di rabbia di invidia e si calmava ma proprio a ridosso di questi momenti poi cercava di nuovo di uccidere Davide quindi cercava di uccidere l'unico uomo che lo amava veramente perché vedremo come la figura di Davide di una figura di grande santità e di amore veramente profondo proprio verso Saul e mentre l'iperseguita chiede anche però di essere da lui aiutato quindi c'è un circolo vizioso che fa capire che Saul è come impazzito a un'ossessione a un odio ossessivo che gli impedisce di vivere di espirare di essere semplicemente se stesso c'è una battaglia finale in cui Saul vedendosi perduto e di fronte alla quasi certezza di finire vivo nelle mani dei suoi nemici si getta sulla propria spada si trafigge e muore quindi non dimentichiamo che la morte di la morte di Saul è una morte praticamente di suicidio si suicida gettandosi sulla sua spada proprio perché non ha più non ha più diciamo quel lume intellettuale che fa allontare l'uomo fino a un fondo e di fronte al rischio di essere catturato si uccide e questa morte tragica di Saul è come dire anch'essa carica di significati davvero il segno che la monarchia che gli ebrei hanno chiesto è giunta ma di fatto nasce in un certo senso già ferita e lo dimostrano sia la vita folle di Saul sia la sua morte altrettanto folle tragica sia la vita della maggior parte dei futuri dei futuri cristiani cioè di fatto la monarchia ben presto ha passato qualche re inizia a essere una forza una tensione grave pericolosa e vedremo pian pianino le varie tappe in cui si dispiega questa di la vita di Davide e lo faremo nella prossima puntata Ale Maria e di nuovo un saluto a tutti gli ascoltatori a tutti gli ascoltatori